Musica Cominciamo quest'oggi un cammino, un cammino che vedrà protagoniste le famiglie in vista di un grande evento che celebreremo a Dio piacendo tutti quanti insieme il prossimo 26 giugno, il decimo incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Roma. Noi come Padre Pio TV vi accompagneremo lungo queste settimane che ci separano da questo importante evento e lo faremo in compagnia di ospiti d'eccezione, ma uno sarà fisso con noi ogni venerdì a quest'ora. Sto parlando del carissimo Don Vincenzo D'Arenzo, parroco della chiesa di San Giuseppe Artigiano qui a San Giovanni Rotondo e responsabile della diocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo della pastorale familiare. Ben trovato, grazie Don Vincenzo. Grazie a te e a coloro che ci ascoltano. È un grande piacere per noi poter parlare di famiglia. Allora io mi sposto dall'altra parte dello studio perché con noi c'è una coppia che collabora direttamente con Don Vincenzo in questo importante ufficio che è quello della pastorale familiare della nostra diocesi nello specifico, ma ne conosceremo tanti provenienti da tutta Italia. sto parlando di Mattia e di Matteo Lombardi. Grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito. E allora cominciamo Don Vincenzo perché il tema di questo incontro, di questo ciclo di catechesi anche che ci proponiamo di offrire ai nostri amici telespettatori viene davvero dalla Sacra Scrittura, ma più nello specifico è un evento che celebra ma anche interroga la famiglia. Ecco, il titolo di questo incontro mondiale al quale ci stiamo preparando è L'amore familiare, vocazione e via di santità. Io per partire ti chiederei subito, la Chiesa, la Chiesa italiana, la Chiesa universale, a cosa vuole mirare con questo incontro? L'obiettivo principale è quello di far sentire la famiglia come nel cuore di Dio e nelle attenzioni della Chiesa. Particolarmente Papa Francesco non smette di volgere il suo sguardo sulla realtà delle famiglie e tutte le famiglie. Con questo evento, il decimo incontro mondiale delle famiglie appunto, e con il titolo L'amore familiare via vocazione e via di santità, Papa Francesco non chiede un evento che sia così astratto nei suoi contenuti. Quando parla dell'amore familiare, intende raggiungere l'amore che lo sposo e la sposa vivono all'interno della propria casa, nel condatto con le altre famiglie. Lo vivono come dimensione in una Chiesa locale, quello della parrocchia, quello di un movimento, quello di una diocesi. Lo vivono sul posto di lavoro, lo vivono come relazione tra sposo e sposa e insieme come accompagnamento della vita dei figli. Quindi vuole raggiungere ogni famiglia, diciamo così. Mi ha sempre fatto impressione, già dall'inizio, quando Papa Francesco ha detto voglio raggiungere tutte le famiglie del mondo. Ho detto, come si fa? Eppure è quello l'obiettivo. Ed è bello che Papa Francesco abbia questa utopia di verità, di bellezza, nel raggiungere le famiglie. E anche perché, non dimentichiamolo, che la Chiesa, il cristianesimo più che la Chiesa, il cristianesimo è nato nelle famiglie. Noi parliamo di famiglie a Chiesa domestica, però non dimentichiamo che la Chiesa si è ritrovata nel Tempio successivamente con Costantino a livello storico, ma è nata nelle famiglie. Ci sono delle famiglie molto belle all'interno stesso della scrittura, come non ricordare Aquila e Priscilla. Nelle famiglie, nelle case, le persone si incontrano, si parlano, pregano, si sostengono, si incoraggiano. E quindi l'obiettivo è quello di riportare questa dimensione nelle famiglie. Da molto tempo abbiamo forse noi, come responsabili di comunità, più portato le famiglie fuori dalle loro case per portarle nelle nostre strutture. Mentre penso che uno degli obiettivi centrali di Papa Francesco sia quello di riportare la famiglia all'interno delle proprie case, per vivere lì l'amore familiare quotidiano, che si relaziona nei rapporti tra di loro, e che si apre all'accoglienza dei bisogni anche di altre famiglie. Don Vincenzo, mi piace molto questa espressione che tu hai utilizzato, utopia realistica, perché parliamoci chiaro, non è facile parlare di famiglie, non è facile parlare alle famiglie. Ecco, uno degli obiettivi anche di questo nostro stare insieme è provare, ecco, in qualche maniera ad interfacciarci direttamente con le famiglie, sia per prepararci a questo incontro, come abbiamo detto, ma anche per, in qualche maniera, ecco, anche tessere quelle relazioni che sono alla base della nostra comunità cristiana. E allora io chiederei se tu mi dai il permesso alle famiglie, ecco, la nostra famiglia che oggi è qui con noi in studio, Mattia e Matteo, voi come, ecco, in qualche maniera vi state preparando a questo incontro che vedrà protagoniste le famiglie di tutto il mondo. Decidete voi chi deve partire. Vabbè, partiamo. Sì, premesso che noi abbiamo già partecipato all'ultima edizione dell'incontro mondiale delle famiglie che si è tenuto a Milano qualche anno fa e dalla nostra diocesi un bel gruppo di persone siamo partiti insieme per vivere questa esperienza. e non nascondo che l'entusiasmo che ci ha accompagnato in quell'occasione vorremmo viverla anche questa volta perché quella volta sentirci vicini, sentirci tutt'uno vorrei dire con tutto il mondo perché abbiamo incontrato veramente famiglie provenienti da ogni angolo della terra e fu veramente un'esperienza bellissima e credo che anche quest'anno anche se non avremo la possibilità di incontrare fisicamente le persone che vengono da altri paesi perché Papa Francesco ha voluto che a Roma si fossero semplicemente due o tre mila persone in pratica referenti dei diversi paesi e che l'incontro fosse decentrato a livello locale sia nelle diocesi che poi nelle parrocchie o nei movimenti accomunando però tutte le realtà con un identico percorso per cui noi ci stiamo preparando proponendo questo percorso a livello diocesano e anche a livello della nostra parrocchia Mattia Sì, infatti abbiamo vissuto un momento molto bello quello a Milano e poi la cosa bella è che qui abbiamo scelto di non alloggiare negli alberghi ma di alloggiare da alcune famiglie che ci hanno ospitate quindi noi non conoscevamo queste famiglie ed è stato veramente un momento molto bello quindi noi vorremmo vivere questo momento con le famiglie della nostra diocesi quindi stare più vicine a queste famiglie anche a quelle che non abitualmente riusciamo a incontrare tutti i giorni L'obiettivo del Papa è proprio quello cercare di arrivare alle famiglie che normalmente non frequentano Ritorniamo al concetto di utopia realista che diceva un po' Don Vincenzo Ecco, Papa Francesco noi l'abbiamo nominato tante volte ora è arrivato il momento di ascoltarlo come ha annunciato il Papa a questo incontro vediamo insieme Cari fratelli e sorelle il prossimo incontro mondiale delle famiglie si terrà a Roma nel giugno 2022 il tema dell'incontro sarà l'amore familiare vocazione e vita di santità dopo il rinvio di un anno dovuto alla pandemia il desiderio di rivederci è grande nei precedenti incontri la maggior parte delle famiglie restava a casa e l'incontro veniva percepito come una realtà distante al più seguita in televisione o sconosciuta alla maggior parte delle famiglie questa volta avrà una formula inedita sarà un'opportunità della Providenza per realizzare un evento mondiale capace di coinvolgere tutte le famiglie che vorranno sentirsi parte della comunità ecclesiale l'incontro assumerà una forma multicentrica e diffussa favorendo il coinvolgimento delle comunità diocesane di tutto il mondo Roma sarà la sede principale con alcuni delegati della pastorale familiare che parteciperanno al festival delle famiglie al congresso pastorale e alla Santa Messa che verranno trasmessi in tutto il mondo negli stessi giorni ogni diocesi potrà essere centro di un incontro locale per le proprie famiglie e le comunità in questo modo tutti potranno partecipare e anche coloro che non potranno venire a Roma laddove sia possibile invito perciò le comunità diocesane a programmare iniziative a partire dal tema dell'incontro utilizzando i simboli che la diocesi di Roma sta preparando vi chiedo di essere vivaci, attivi, creativi per organizzarvi con le famiglie in sintonia con quanto si svolgerà a Roma si tratta di un'occasione preziosa per dedicarci con entusiasmo alla pastorale familiare sposi, famiglie e pastori insieme coraggio dunque cari pastori e care famiglie aiutatevi a vicenda per organizzare incontri nelle diocesi e nelle parrocchie di tutti i continenti buon cammino verso il prossimo incontro mondiale delle famiglie e non dimenticatevi di pregare per me grazie abbiamo dunque ascoltato le parole di Papa Francesco sono tre gli aggettivi molto belli che ha utilizzato nei confronti delle famiglie vuole che siano Don Vincenzo vivaci, attive, creative ecco allora io ti chiedo la diocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo come si sta preparando a questo appuntamento importante? grazie per questa domanda perché voglio ringraziare tante famiglie che fanno parte del Consiglio diocesano che si stanno molto impegnando, ci siamo incontrati più volte, abbiamo discusso su questo ecco come diocesi anche noi ci siamo detto che era opportuno neanche avere un unico centro diocesano un ipotetico luogo centrale della diocesi ma avere tanti centri quante sono le parrocchie e anche noi per quella utopia speriamo realistica anche noi abbiamo pensato che poi avendo come centro ipotetico la parrocchia anche ogni singola famiglia della parrocchia possa unirsi a questo evento multicentrico e diffuso noi l'abbiamo letto così multicentrico e diffuso per questo abbiamo scelto come luogo centrale della nostra diocesi dove poter vivere alcuni momenti sia in preparazione sia nei giorni della settimana della famiglia soprattutto il 25 e il 26 di giugno abbiamo scelto San Giovanni Rotondo, abbiamo scelto il santuario di San Pio e abbiamo scelto questo luogo, il luogo di Padre Pio TV perché attraverso Padre Pio TV vogliamo raggiungere anche con le dirette che faremo e grazie a voi e alla vostra disponibilità vogliamo raggiungere tutte le parrocchie e chiedere che ogni parrocchia diventi poi ponte per le famiglie abbiamo pensato a costituire una consulta più attiva, vivace come dice Papa Francesco e devo dire grazie anche alla collaborazione dei parroci abbiamo raggiunto praticamente l'unanimità della presenza di una coppia o più coppie di ogni parrocchia con loro stiamo facendo un percorso, un cammino lo inizieremo esattamente domani, sabato 5 alle 4 del pomeriggio anche qui in presenza nei locali del santuario e a iniziare le catechesi, le sette catechesi che abbiamo scelto come cammino comune che ci porti poi a celebrare il decimo incontro mondiale delle famiglie a iniziare queste catechesi sarà il nostro Vescovo segno importante dell'attenzione che il pastore e tutta la Chiesa diocesana vuole portare alle famiglie quindi sono questi un po' gli spunti essenziali poi man mano che andiamo avanti altre iniziative potranno sia emergere da noi sia essere accolte come iniziative che ogni singola parrocchia o altre famiglie ci potranno far raggiungere Benissimo Don Vincenzo, allora noi ora ci fermiamo qualche istante per la pubblicità e poi ritorneremo ancora qui insieme per parlare di questo incontro mondiale delle famiglie che aspettiamo di celebrare il prossimo mese di giugno, restate con noi Eccoci ancora insieme, dunque ci stiamo preparando insieme a Don Vincenzo e alla famiglia di Mattia e Matteo a questo incontro importante del prossimo mese di giugno dedicato alle famiglie e allora noi ora vogliamo in qualche maniera aprire lo spazio dedicato proprio alle famiglie lo facciamo grazie alla vostra disponibilità a Matteo, Mattia chiedendovi ecco come voi vi approcciate a questa tematica della famiglia abbiamo visto prima che il vostro servizio per la nostra diocesi per la diocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo riveste un'importanza particolare anche in vista di quello che andremo a celebrare ma io ora vorrei entrare un po' di più nella vostra casa se mi permettete lo facciamo ovviamente in punta di piedi e con i tempi televisivi ristretti che purtroppo ci costringono ad essere sintetici ecco cosa vuol dire essere famiglia? Partirei da Mattia per parcondicio, ecco così abbiamo fatto un'altra volta Prego Mattia Allora per noi essere famiglia significa portare, respirare l'amore di Gesù nella nostra famiglia ecco e poi quest'amore non deve essere chiuso semplicemente nella nostra casa ma è un amore che deve andare oltre la nostra casa e questa è stata la passione che ci ha portato ad aprirci anche alle altre famiglie per cui un amore che non può essere chiuso semplicemente vissuto nelle quattro amore domestiche ma un amore che deve andare oltre, oltre la propria casa, oltre la propria famiglia ecco perché noi diciamo ci vogliamo sentire con questo incontro mondiale delle famiglie a livello mondiale un'unica famiglia anche perché io credo questa sia anche, permettetemi, una sorta di palestra diciamo così, tante volte ecco siamo abituati la pandemia poi per forza di cose c'è un po' costretti ecco all'interno delle mura domestiche ora credo sia il momento, sperando che ecco anche le situazioni internazionali ci aiutino di spiccare un po' il volo, ecco credo sia provvidenziale che cada proprio in questo momento storico questo incontro mondiale delle famiglie io credo che il Papa l'abbia pensato da molto tempo questa iniziativa il suo ministero in tutti questi anni ha tenuto molto presente la famiglia proprio perché a prescindere dal fatto che la famiglia è la cellula fondamentale della società però la famiglia è il luogo dell'amore Giovanni Paolo II diceva che comunità di vita è d'amore solo nella famiglia l'uomo impara ad amare e se non impara ad amare nella famiglia non ci sono altri luoghi in cui può sopperire a questo deficit per cui io credo che bisogna dire alle famiglie che non si devono sovraccaricare di impegni così come la nostra, non è che abbiamo chissà quali progetti l'unico impegno della famiglia è quello di amarsi far vivere al proprio interno l'amore e portare questo amore all'esterno non ci sono altri impegni se vuoi essere un bravo coniuge devi sapere amare se vuoi essere un bravo padre devi sapere amare se vuoi essere un bravo cittadino devi portare questa capacità di dono all'esterno se rimani chiuso in te stesso nell'appartamento oggi si parla di appartamento appartare anche l'amore, l'amore non si può appartare l'amore se è vero esplode, porta all'esterno tutto quello che c'è dentro non si può essere ipocriti nell'amore quindi il nostro obiettivo come famiglia è quello di cercare di far diventare consapevoli le persone che incontriamo, le famiglie che incontriamo del dono che hanno in sé, di questa realtà, di questa soggettività di questo protagonismo che la famiglia porta in sé rispetto all'amore permettetemi però, secondo me, lo dico anche da marito e comunque da padre non c'è spazio per l'improvvisazione perché questo è un percorso che tu maturi volta per volta giorno per giorno, minuto per minuto non ci si può improvvisare, come dire, maestri permettetemi il termine, nei confronti delle altre famiglie e poi magari in casa si è tutt'altro c'è una scuola, diciamo così io per questo ho parlato di una scuola senza maestro per questo ho parlato di testimonianza tu puoi testimoniare quello che sei non è che puoi testimoniare quello che non sei dicevo, non si può essere falsi in amore puoi portare fuori solo quello che già c'hai dentro e anche quello che c'hai dentro è fatto di fragilità di cadute, ma anche di riprese anche di sostegno per questo si è in due ad amare, a essere vivi la relazione è quello che crea crea l'identità e crea anche la forza di poter andare avanti tutti i giorni nonostante quello che succede noi cerchiamo di portare questa realtà all'interno della nostra diocesi sia attraverso la partecipazione ai gruppi famiglia sia la partecipazione ai percorsi di formazione dei fidanzati o nei cenacoli di preghiera ai quali partecipiamo ma sono tutte realtà che comunque al di là dell'occasione se poi non diventano vita concreta nel quotidiano lasciano il tempo che trovano perché ognuno deve essere quello che effettivamente è come dice il Papa famiglia diventa quello che sei allora noi vogliamo far vedere ai nostri amici ricollegandoci anche a quello che diceva prima Don Vincenzo l'icona di questo incontro mondiale chiederei alla regia di mostrarlo ai nostri amici telespettatori è un'icona che è stata scritta da una persona che noi qui a San Giovanni Rotondo conosciamo molto bene padre Marco Ivan Rupnik stiamo vedendo le immagini in onda di come è stata scritta ecco questo il termine tecnico per definire l'icona dell'incontro mondiale delle famiglie del prossimo mese di giugno è un'icona che racchiude un significato e un senso molto particolare che si collega davvero in maniera eccellente direi con quello che finora abbiamo detto e allora ascoltiamo padre Marco Ivan Rupnik che ci spiega la genesi di questa icona davvero molto molto bella che poi vedremo come protagonista il prossimo mese di giugno a Roma nell'incontro mondiale per le famiglie vediamo insieme la prima cosa che mi è venuto così nella memoria e nel cuore era il grande padre siriaco Giacomo di Saruc che fa vedere il grande mistero che Mosè vela parlando di uomo e donna che si uniranno e diventeranno uno come immagine di Cristo e l'umanità Cristo e la Chiesa Dio e uomo nella persona di Cristo diventano una unità incrodabile e indissolubile mai più Cristo sarà senza l'umanità senza il corpo anche l'umanità diventerà corpo di gloria di Cristo e siccome si parlava dell'uomo e donna che si uniscono nell'amore mi sono subito messo nella canna di Galilea dove avviene proprio questa novità in modo molto simbolico, biblico, molto denso che l'uomo e donna nel Cantico dei Cantici è una immagine di rapporto uomo e Dio e quando Maria dice non c'hanno più vino allora infatti nei testi sapienziali si racide il vino e l'amore ciò che dà senso è il gusto alla vita allora praticamente si dice questi sposi che qui sono dietro il velo di Mosè questi sposi che uomo e Dio questo rapporto si è prosciugato queste giare 6 che è un numero un po' frustrante perché non arriva a 7 che sarebbe il pieno e sono immagini della legge di Mosè che non dà più la vita come poi dirà Paolo noi non possiamo ricevere la vita dalla legge ma Cristo facendo il passo dall'acqua al vino praticamente apre la via alla comprensione del suo sacrificio del suo dono nelle nostre mani per far emergere una umanità nuova che berrà la vita del figlio perciò Giacomo parla proprio di questa vicinanza di questa unità del sangue di Cristo e sangue della sposa che si beve e infatti qui Paolo versa non a questi sposi che non ci sono ma a sposi che sono qui alla Chiesa e il nutrimento che viene per quelli questo sarebbe nell'arte chiamato la quarta dimensione cioè coinvolgimento di quelli che sono davanti all'opera allora Paolo offre questo perché lui è quello che ha svelato il mistero nelle Fisini 5 e esclamò questo mistero è grande e parlava del Cristo e della Chiesa che è il fondamento dell'uomo e donna cioè del matrimonio allora Don Vincenzo abbiamo visto questa brevissima spiegazione di questa icona davvero molto molto bella di padre Marco Rupnik ti chiederei in 30 secondi una battuta su questa quarta dimensione facciamo finta ecco che dall'altra parte ci siano delle persone fisiche ci sono dall'altra parte dello schermo ma non nel nostro studio ecco questo vino da versare è una metafora che potremmo dire racchiude il senso di tutto quello che ci siamo detti finora certo è il senso dell'amore gioioso dell'amore che è festa quando noi parliamo del pane il pane è un elemento insostituibile nel nostro cibo il vino no il vino del vino ne possiamo fare a meno ci basterebbe l'acqua ma il vino è il segno della spontaneità della festa che deve prevalere perché altrimenti saremo un po' simili agli animali gli animali mangiano per nutrirsi e basta noi mangiamo anche per fare festa ecco in questa quarta dimensione tutti coloro che ci vedono tutti coloro che ci ascoltano tutti coloro che guardano l'icona il Cristo la Chiesa devono portare questa dimensione di festa nella loro vita e nella vita delle relazioni con altre famiglie all'interno della Chiesa e giustamente sottolinea Papa Francesco nella società nel mondo ci aspetta un compito duro un compito difficile noi ora ci fermiamo qualche istante per la pubblicità e poi avremo con noi in diretta un ospite importante restate con noi nell'ultima parte del nostro programma dedicato alle famiglie in vista di questo incontro mondiale del prossimo mese di giugno vogliamo aprire un po' le finestre a tutta Italia ma oggi nello specifico ci limitiamo alla nostra Puglia la regione Puglia dalla quale stiamo trasmettendo perché abbiamo in collegamento Skype con noi Monsignor Leonardo Dascenzo Vescovo di Trani Barletta Biceglie e Delegato della Conferenza Episcopale Pugliese per la Famiglia e per la Vita ben trovato eccellenza grazie per aver accettato il nostro invito grazie a voi per l'invito un buon pomeriggio a tutti bene eccellenza assieme a Don Vincenzo ai nostri amici qui in studio abbiamo davvero fatto una bella chiacchierata su quelle che sono le prospettive le attese di questo incontro importante che si terrà a giugno come abbiamo avuto modo di vedere ecco io la prima cosa che le chiederei è perché oggi è così importante parlare delle famiglie e alle famiglie sì a mio avviso è stato sempre importante parlare alle famiglie e delle famiglie perché come ben sappiamo la famiglia è cellula fondamentale e di necessario riferimento per la società in modo particolare nel nostro ambito per la chiesa e oggi in modo particolare diventa importante parlare alla famiglia e delle famiglie perché viviamo in un tempo in cui l'individualismo è un aspetto una caratteristica che purtroppo accompagna questo nostro tempo e tante tante persone la famiglia certamente può essere di aiuto nell'affrontare questo aspetto appunto di fatica presente nella nostra società presente nella vita di tante persone dunque anche che va a segnare negativamente le relazioni in una società e nella chiesa e quindi rivolgersi alle famiglie per chiedere anche a loro una testimonianza un sostegno un aiuto rivolgerci alle famiglie per evitare che l'individualismo entri anche nel rapporto nelle relazioni all'interno della della famiglia oggi un altro elemento che adesso mi viene in mente il problema della difficoltà nella nostra società e a volte dobbiamo riconoscerlo anche nella chiesa nel vivere una come dire la generatività è parlare alla famiglia perché sia capace di donare vita ma di saper poi far vivere la vita è un aspetto importante ripeto per la famiglia stessa e per la società prima ancora anche per la chiesa eccellenza la chiesa si fa carico di una responsabilità importante in questo tempo difficile in cui le famiglie sono messe a dura prova ma nello specifico parliamo anche di matrimoni don vincenzo perché la chiesa deve rispondere in qualche maniera a queste sollecitazioni che arrivano ecco io eccellenza le chiederei come deve rispondere appunto la comunità ecclesiale a questa crisi dei matrimoni della famiglia in generale sì io penso che dovremmo metterci in sintonia nella direzione dell'esortazione apostolica Moris Letizia e quindi come chiesa dobbiamo annunciare la bellezza dell'amore e dell'amore nel sacramento del matrimonio e sempre in sintonia con la Moris Letizia come chiesa dobbiamo accompagnare la famiglia oggi nel riscoprire la sua specifica vocazione nella chiesa e nel mondo contemporaneo e oggi c'è un po' una difficoltà una fatica nel percepire e vivere la propria vita come come vocazione viviamo una crisi diffusa che tocca ogni vocazione da quella al presbiterato alla vita consacrata e anche alla famiglia ed è bene riscoprire la bellezza di essere chiamati nel sacramento del matrimonio a vivere e testimoniare l'amore l'amore di Gesù per la chiesa l'amore di Gesù per il mondo questa vicinanza poi della chiesa nei confronti della famiglia dovrebbe anche esprimersi in rapporto ad altri temi ad altri ambiti come l'importanza del progettare la vita è una famiglia è proprio questa esperienza un'esperienza di vita che parte da un progetto un progetto che è risposta ad una ad una chiamata da parte di Dio da parte del mondo da parte della 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 società e come dicevo la generatività è un altro aspetto per il quale la chiesa è bene che si affianchi alla famiglia la famiglia è chiamata non soltanto a generare fisicamente degli individui delle persone dei figli ma è chiamata poi a far vivere queste queste vite allora proprio attraverso la famiglia che ogni persona non a partire dai figli ma poi la società intera dovrebbe essere aiutata a riscoprire ripeto attraverso anche la testimonianza della famiglia che la vita è un dono è un dono straordinario che viene accolto e a partire dall'accoglienza di questo dono la si vive la vita come un dono poi da restituire da condividere da offrire è una responsabilità l'ora eccellenza come abbiamo detto Don Vincenzo sì un saluto Padre Padre Vesco buonasera buonasera volevo dirle questo forse abbiamo bisogno anche un po' nel nostro interno di chiesa di quella conversione pastorale di cui Papa Francesco parla sia nell'Evangelii Gaudium che in Amoris Laetitia quella conversione pastorale che non ci faccia più guardare alle singole persone ma ogni singola persona all'interno di una comunità all'interno di una famiglia forse questo è un po' ancora lontano dai nostri stili pastorali in genere ecco che cosa ne pensa che cosa potrebbe dire che cosa ecco anche nella nostra regione Puglia così vivace per tante altre realtà possiamo assicurare o dire a coloro che ci ascoltano sì Don Vincenzo sono sono d'accordo come poc'anzi dicevo sulla sull'importanza e forse sulla necessità di operare da un punto di vista pastorale un servizio che aiuti un po' tutti a superare quella sorta di individualismo che ci impedisce poi di sentirci comunità di sentirci famiglia di sentirci persone che in forza del battesimo siamo state inserite in un in un corpo facciamo parte di un corpo il corpo dei figli di Dio siamo fratelli siamo sorelle e questa famiglia è chiamata a camminare e camminare insieme come stiamo poi cercando di riscoprire attraverso il percorso sinodale che nelle nostre diocesi nella nostra regione nella chiesa italiana nella chiesa universale stiamo vivendo in questo periodo per cui una conversione pastorale importantissima è proprio questa quella di sentirci e vivere come 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 famiglia quindi una famiglia dove ci si prende cura reciprocamente si riconosce la presenza dell'altro si accoglie l'altro e si cammina poi tutti tutti insieme qui in Puglia come servizio regionale si va proprio in questa direzione attraverso varie proposte di catechesi o di formazione o di attività varie per come dire aiutare in questo percorso sinodale della chiesa a maturare sempre di più uno stile uno stile sinodale che interessi prima di tutto i coniugi la coppia e poi la famiglia dunque la coppia con i figli e poi ancora la famiglia insieme con le altre famiglie dunque all'interno di una comunità ecclesiale la comunità ecclesiale nel rapporto poi alla società ma tutto poi è importante che possa partire da uno stile sinodale da maturare nella nella coppia bene eccellenza è importante che alla fine poi ritorniamo anche nell'alveo del sinodo visto che stiamo vivendo questo periodo importante io sono sicuro che ne riparleremo anche Don Vincenzo collegando queste due tematiche purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato io eccellenza la devo salutare e già da ora la invito ad essere presente magari qui a San Giovanni Rotondo uno dei prossimi venerdì per parlare ecco di persona di questa bellissima tematica che abbiamo affrontato che abbiamo approcciato semplicemente oggi e che poi svilupperemo nel corso delle settimane grazie per essere stato con noi grazie un caro saluto a tutti voi grazie buona continuazione grazie grazie eccellenza e noi allora Don Vincenzo chiudiamo la nostra prima puntata abbiamo davvero messo tanta carne a fuoco e a cuocere nelle prossime settimane speriamo ovviamente di riuscire ad approfondire ancora di più questa bellissima tematica delle famiglie in compagnia delle famiglie stesse che io oggi voglio ringraziare un po' facendo la sintesi Mattia e Matteo davvero per questa presenza preziosa noi ci rivediamo venerdì prossimo dunque puntuali come sempre alle 19 e ci salutiamo davvero con semplicità grazie Don Vincenzo grazie a tutti ci rivediamo la settimana prossima grazie a tutti grazie a tutti